Un mese di lavoro alle porte di Sondrio, al confine con la Bosaggia. Due semafori, uno in località Porto, l'altro alla fine di Via Vanoni, delimitano il cantiere aperto per sistemare sia la sede stradale, sia l'accesso al sentiero Valtellina. In queste ore gli operai sono impegnati attorno alla rotonda che si trova sotto la tangenziale di Sondrio, una zona dove da tempo l'asfalto era pieno di buche, anche profonde. L'intervento sulla pavimentazione sarà strutturale, spiega il comune di Sondrio, perché il degrado non riguarda solo gli stati superficiali, ma anche il sottofondo. Verranno anche sostituiti i giunti di dilatazione, ormai usurati. Al loro posto ne verranno collocati altri in gomma armata. Altro obiettivo è rendere più sicuro l'accesso al sentiero Valtellina, il percorso ciclopedonale che è diventato nel corso degli anni uno spazio molto apprezzato dai valtenesi e dai turisti. L'ingresso, spiega il comune, non è attualmente ben segnalato, né si offre al ciclista un vero e proprio percorso che lo accompagni dall'uscita alla città. Verrà creato un percorso di collegamento in asfalto senza gli attuali dislivelli tra il sentiero Valtellina e le strisce pedonali e verrà allestita anche un'aiuola dotata di bacheca informativa. Tutte le opere che verranno realizzate sono state finanziate al 100% da Regione Lombardia. 180 mila euro le risorse messe a disposizione che rientrano fa gli interventi per la ripresa economica. La zona è caratterizzata da flussi di traffico intensi, soprattutto in ore di punta, spiega l'assessore dei lavori pubblici Andrea Massera, ed è la nostra intenzione intervenire per sistemarla, ripristinando il manto stradale e garantendo la sicurezza. Allo stesso tempo vogliamo migliorare l'accesso a sentiero Valtellina, riqualificando la pavimentazione, l'illuminazione e la segnaletica del percorso di collegamento verso le piste ciclopedonali sulla Via Vanoni. Ci scusiamo per i disagi, aggiunge Massera, limitati peraltro a poche settimane, ma al termine dell'intervento i benefici saranno evidenti. In contemporanea si lavorerà anche lungo via Giuliani per il rifacimento del manto stradale e per sistemare i punti in cui si trovavano i pini marittimi sostituiti con nuovi alberi.